Festival del Mondo in Comune inizia con delle borse di studio? Festival del Mondo in Comune, ci sono anche le borse di studio, frutto di un lavoro di laboratorio che la ONG TAMAT ha fatto con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia dove insieme alla professoressa Favalli abbiamo formato una ventina di studenti sui temi della progettazione della cooperazione internazionale. I più meritevoli sono stati assegnatari da parte di TAMAT di due borse di studio e hanno vissuto un periodo di un mese e mezzo in Burkina Faso in un nostro progetto di cooperazione allo sviluppo. Siamo stati contenti di dedicare queste borse di studio alla memoria di Paolo Vinti, un nostro amico, un amico di TAMAT, che è perugino, ma che ha delle spiccate sensibilità verso i temi del pacifismo, dell'internazionalizzazione e della cooperazione internazionale. Un festival itinerante che si è svolto in più città? Un festival itinerante che ha visto coinvolte la Regione dell'Umbria, l'Associazione dei Comuni dell'Umbria, il Comune di Assisi, Orvieto, Foligno, San Giustino, più il mondo dell'associazionismo e le due università. Abbiamo fatto il weekend passato a Perugia, siamo stati a Foligno con spettacoli teatrali, siamo attualmente ancora a Foligno con delle mostre degli artisti che hanno partecipato a un nostro bando. Ieri eravamo a Marsciano per parlare della questione della Repubblica Sarawi e con un concerto organizzato da una banda appartenente alla diaspora ivariana Umbra. Chiuderemo questa settimana di festival a San Giustino con un'iniziativa su un progetto di cooperazione internazionale in Burkina Faso e un concerto prestigioso che vedrà la partecipazione del giornalista della stampa e critico musicale Sandro Cappelletto. Tamat consegna due borse di studi a nome di Paolo Vinti. Stefano, la dimensione internazionale di tuo fratello? Paolo sicuramente è uno che ha inteso la militanza politica nella sua più grande accezione internazionalista ed internazionale. Ha amato l'Europa, ha vissuto a Berlino, la Germania, ha vissuto a Managua con la rivoluzione sandinista, ha girato gli Stati Uniti e ha sempre cercato di coniugare l'impegno quotidiano militante di rivoluzionario internazionalista appunto con un'idea del mondo che era oltre i confini e oltre i muri.